Il 4 novembre si celebra San Carlo Borromeo. Nato nel 1538 dall'unione del conte Gilberto Borromeo e Margherita dei Medici, rappresenta una figura importante non solo per la chiesa, ma anche per la storia bustese. Infatti nel 1583, dopo una sua visita pastorale nel borgo, feudo dei conti marliani, constatando quanto fosse popolato e per altre caratteristiche come i cinque curati e le tante chiese, ma queste sono solo alcune delle motivazioni che si leggono nei documenti d'archivio, decise di trasferire la pieve da Olgiatelona a Busto. Questo passaggio è rappresentato in un dipinto visibile in Basilica San Giovanni all'interno di una cappella dedicata al santo. Il quadro assume anche proprio un'importanza perché accanto alla figura di Carlo Borromeo noi abbiamo alcuni personaggi legati proprio alla storia di Busto. Quindi in ginocchiato vediamo il prevosto Ippolito Seta, il prevosto di quel momento che era stato vicino ed era vicino a San Carlo, il feudatario che era il conte marliani e poi altre figure che purtroppo non riusciamo a identificare con esattezza. Comunque dovevano essere dei maggiorenti per Busto. Da questo momento, prosegue lo storico Giuseppe Paciarotti, nasce anche il rinnovamento architettonico della chiesa che da Romanica, grazie a questa volta al cugino di Carlo Federico Borromeo, assume le sembianze che oggi vediamo. Il pittore in effetti non aveva più memoria dell'antica chiesa e allora cosa fece? Illustrò il momento del trasferimento facendo vedere da una finestra il campanile che San Carlo aveva visto e una parte della chiesa nuova che è appunto quella dove i bustocchi decisero di intitolare una cappella, la prima cappella a destra entrando nel transetto minore, appunto a Carlo Borromeo.